bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono monkit e oggi siamo su minecraft per la mia prima volta sul mio canale youtube allora intanto scrivetemi nei commenti se vi interessa volevo portare questa nuova serie ma se solo la continuo a portare solo se arriviamo a 15 like quindi arriviamo a 15 like e porterò un altro episodio di questa nuova serie e niente proviamo a fare questa serie survival e vediamo come va se vi piace lasciate un bel like e condividete il video allora iniziamo subito facendo un po' di materiali io diciamo un po' me la cavo a giocare a minecraft ma non tanto se volete che porto collaborazioni con altri youtuber fatemelo sapere qua sotto in descrizione nei commenti e farò collaborazioni con altri youtuber su minecraft magari su se volete che porto parkour dropper e cose scrivetevi nei commenti con una mucca allora uccidiamo questa pecora senza farla finire la sotto ok con la mucca mangiare pecora letto grazie mille forse riusciamo a farci anche due letti così se magari un giorno viene un amico un mio amico qua in survival posso farlo dormire allora non so peporella lo sto più uccidendo per il cibo che il pepore ha dormito perchè alla fine potrei anche stare svegliata per non stare la e aspettare che diventa giorno noi lo vediamo prima allora il letto è fatto diciamo la vedo una cosa strana raga che cos'è quello no raga io direi non subito di andarci perchè ci potremo schiattare un secondo io già ho capito chi sono sono i pillager no raga raga no 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 io non direi di andarci perchè moriamo subito raga torniamo indietro però se ci segue dai non ci seguirà allora vado a craftarmi una spada in pietra e provo a ucciderla anche se mi bastonera di continuo dai raga mi stai seguendo raga non voglio morire subito ve lo dico i pillager sono il mio incubo sempre l'incontro ok vado a dover buonasera ok gg ucciso pillager un secondo che devo farmi tutta bautile intanto questo usiamo possiamo possiamo aspetta intanto devo prendere un po' di carbone per poi farmi la crafting table ehm la fornace intanto iniziamo un po' a fare una bella basettina qualche colina ok 5 di carbone non so se riesco a farmi tante torce però quel che c'è per questa piccola base ok allora andiamo un secondo sopra andiamoci a prendere intanto io un piro una una pala un'ascia per poi prendermi una mela una mela non la mangio 2 mela per prendere poi il il coso allora questo è con con il piccone il legno però è facile di consumarlo allora è già appiattare appiattare questo e questo ok allora che devo fare così così allora una torcia 4 4 3 ok e con un carbone proviamo a cuocere la carne anche se non la vedo tanto possibile questa cosa poi il mio lettino lo piazziamo qua tanto aspettate poi magari nel prossimo episodio andiamo in miniera l'alletto l'alletto che siamo qua ripeto ragazzi questa qua è una base cioè una base temporanea numeroД aspettate il numero che ci sono troppo i più davvero e rispetto che ci sono un po' il suo inquietanti ragazzi metteremo tanto a scendere in maniera ve lo dico intanto troviamo i primi ecco ancora buono buono così iniziamo a farci piccoli avanzati carbone che ci serve tantissimo tantissimo carbone va via 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 tutto in saccozza a posare tutto sennò prendiamo tutto siamo consumati con questo carbone posso fare un sacco di torce ma un sacco un sacco quanto carbone ci ho 8 di carbone 9 10 e vabbè ma quanto no vabbè raga quanto carbone poi scrivetelo anche nei commenti se volete che porto live su minecraft no vabbè ecco infatti mi sembrava strano tutto questo carbone allora questa è una grotta da esplorare però non faremo ora perché è un po' impossibile intanto noi finiamo tutto questo materiale che non è affatto male in sospeso siamo a livello ancora a 45 quindi è ancora un po' basso dovremmo salire ancora un po' di più qua raga secondo me c'è un mob spawner ve lo dico perché ci sono entro troppi rumori di mostri intanto io devo mangiare un po' di carne una bastava semplice allora facciamo tipo così per questa carne poi facciamo intanto andiamo a dormire intanto ora prepariamo un'altra fornace da cui mettiamo qua questo si può creare? no da cui mettiamo qua facciamo così e cuciniamo il ferro ok da qui ci mettiamo un po' il piccone allora intanto possiamo tutta la lana di fassare tutta la roba che non serve diciamo ok e questo, questo questo, questo, questo possiamo tutto da non lasciare niente completamente non ce lo portiamo lasciamo questi mazze e intanto ci col resto ci facciamo le forbici quante e facciamo un altro stick e qua ok dai ok abbiamo 53 53 53 53 torce la prendiamo questo bel ferro e mi faccio già un po' di utensili in ferro questo piccone lo possiamo fare la spada me la posso anche tenere facciamo così e poi piccone intanto io mi prendo pure eh allora vediamo cosa si può fare con un po' di ferro un poco poco tipo questo quanto ci vuole io non l'ho quattro aspetta quattro c'è una quattro no due due tre due allora ci facciamo niente però un secchio me lo farei quindi io spendere questi soldi per questo ferro con un secchio mettiamo questo il carbone me lo porto perché può servire intanto mettiamo questo così con due di carbone sì andiamo a letta non ho già dormito piccone un ferro andiamo un po' fuori a prenderci un po' di materiali ok sento a salire magari